Sindaco Federici, quali sono le sensazioni del giorno dopo? Le sensazioni sono duplici, da una parte la riflessione che dobbiamo fare e la reazione che dobbiamo avere al fenomeno dell'astensionismo e l'altra è una reazione di grande soddisfazione perché c'è stato da parte dei miei concittadini, da parte dell'elettorato, un premio molto forte e molto netto perché in un momento così complicato e difficile la crisi, l'antipolitica e poi questa frammentazione che è da record, credo, nella nostra città avere avuto un risultato di questo tipo riempie di soddisfazione naturalmente. Senta, molti davano per scontato il ballottaggio, invece lei ha sobrato la prova al primo turno, quali sono i motivi? Ci sono più motivi, uno che mi pare che sia necessario mettere nel giusto risalto è questo successo, direi straordinario, della mia lista cosiddetta mia lista perché più dell'8% è qualcosa che è andato oltre le mie stesse aspettative. In più c'è stato anche un valore aggiunto di voti dati solo ed esclusivamente al candidato sindaco, a me, altri 1.400 voti e fanno quasi un altro 4%. Dunque se li sommiamo, questo dà un segno molto forte, non dico che è stato l'unico perché tutta la coalizione si è comportata molto bene. Però questo contributo è stato un contributo importante e credo che valga la pena di riflettere su questo punto. La domanda classica per un vincitore, cosa farà i primi 100 giorni? Beh, i primi 100 giorni sono pieni di impegni densissimi, tra l'altro per questioni come dire proprio importanti per la vita della città e si parte con le questioni che riguardano ACAM perché i prossimi mesi saranno mesi decisivi, dunque questo sarà sicuramente un impegno forte. Poi ci sono i temi di come riusciamo a dare dei segnali contro la crisi, sostegno al piccolo commercio, le operazioni di marketing. C'è da preparare un'estate spezzina che sarà un'estate spezzina un po' particolare con delle novità importanti. E poi c'è la questione arie militari, i temi del lavoro saranno comunque quelli che in qualche modo sarà il filo rosso dei primi mesi di lavoro della mia amministrazione e credo il filo rosso di tutti i cinque anni che mi aspettano. Senta Sindaco, questa affermazione la rende molto più forte? Userà questa forza anche per la Giunta, cioè per essere più autonomo magari dalla logica di partito, dalle correnti? Io sono sempre stato da questo punto di vista molto laico, nel senso che non ho mai rinunciato la mia autonomia, il mio punto di vista, però io credo che i partiti siano una componente fondamentale e importante della vita democratica di una città. Per cui dobbiamo trovare, come si dice, il giusto equilibrio ed un compromesso alto, è un compromesso alto tra quelle che sono le giuste richieste di rappresentanza e di presenza dei partiti nel governo della città e quelle che invece devono essere i temi della mia autonomia, della qualità della Giunta, delle competenze. Ecco, io credo che in questi anni poi ce l'abbiamo fatta trovare questo equilibrio. Continuiamo così. Grazie. Grazie. Grazie a tutti